ci siamo ci siamo eccoci stiamo per iniziare la seconda puntata di al telefono con e oggi lo facciamo con un ospite speciale fabio porro di auto 180 parleremo di rete di carrozzeria italiane chiaramente lui ci illustrerà cosa significa fare rete perché è necessario fare rete ma prima voglio voglio esprimere le mie considerazioni sulla sua persona prima di registrare questo podcast anzi ancora prima di di ideare questo questo podcast mi sono sentito con con fabio è stata la settimana scorsa e siamo stati un'oretta circa in video call e abbiamo parlato di tantissime cose e durante la conversazione ci siamo come dire ci siamo scambiati appunto delle informazioni circa quelle che sono le nostre esperienze fatte in carrozzeria ovviamente le mie esperienze si riducono a due anni insomma in questi ultimi due anni passati in green soul ovviamente lui vive il mondo dell'automotive in generale credo intorno ai 30 anni quindi è un'esperienza molto matura molto avanzata e grazie alla sua esperienza ho potuto capire una serie di cose durante la nostra conversazione capire un po di cose e avvallare alcune altre cose perché è importante la condivisione e farlo con persone che amano la condivisione amano esprimere quello che sono quelle che sono le esperienze accumulate durante gli anni e farlo in un certo modo non può che arricchire tutti quanti quindi con fabio oggi parleremo appunto di questo tema ovviamente approfondiremo il tutto con alcune domande che ho già preparato per lui però ovviamente voi sapete benissimo che se volete approfondire alcune tematiche potete farlo attraverso dei commenti oppure ci contattate o contattate direttamente fabio porro quindi auto 180 bene allora siamo pronti a chiamarlo allora telefonata è partita sei pronto buonasera fabio sono francesco green soul buonasera benvenuto benvenuto nel nostro podcast nel nostro show al telefono con grazie grazie per l'invito ed è un piacere tutto mio grazie per la partecipazione sia da parte mia sia da parte di green soul ovviamente ringrazio tutto il team green soul ringrazio pasquale e martina che hanno fortemente voluto con te francesco questo momento di confronto assolutamente sì è vero infatti poc'anzi facevo riferimento alla nostra conversazione avvenuta circa una settimana fa una video call durata un'oretta attraverso questa conversazione ho potuto dicevo che ho potuto conoscere meglio i tuoi pensieri e quindi ci siamo confrontati su alcuni alcune questioni ecco non ho affrontato i vari temi lo faremo magari più avanti però accennavo appunto a questa conversazione che noi abbiamo avuto la settimana scorsa sì sì molto piacevole devo dire perché abbiamo spaziato su più cose assolutamente sì allora io inizierei con la domanda classica che faccio a tutti faccio e farò a tutti gli invitati di in questo podcast affinché vi possiate presentare con la vostra voce e con il vostro curriculum con la vostra esperienza quindi inizio con la domanda fatidica chi è fabio porro beh te la riduco a sintesi il mio percorso professionale nell'ambito del settore automotivi nasce trent'anni fa dove mettevo a sintesi e portavo a sintesi tutta una serie di attività che stavamo facendo su alcune strutture del settore auto e così costituimo a Varese e poi in Lombardia un primo consorzio di carrozzerie, officine, gommisti e quant'altro. Da lì con l'esperienza ha insegnato due cose sostanzialmente la prima che i consorzi era difficile poterli fare operare in un ambito di regole di attività e di comuni obiettivi e l'altro che comunque l'aggregazione già allora aveva un'utilità enorme. Da lì nel 97 ho costituito una società mia di consulenza esclusivamente per il mondo auto che nel 2000 ha portato alla nascita del Club Decento che è stata forse la prima vera rete importante in ambito nazionale. Poi le cose hanno proseguito in altre esperienze fino ad arrivare ad oggi a quattro anni fa quando nasce Auto 180 e prendo l'incarico di direttore generale di questa struttura seguendo lo sviluppo strategico e le attività di relazione con i grandi committenti e comunque con il mercato. Certo, certo, fantastico. Quindi hai parlato di Auto 180, ti chiedo a questo punto di raccontarci quella che è la vision e la mission di Auto 180. Ma Auto 180 ha come obiettivo la centralità per il professionista carrozziere, ovvero noi ci siamo resi conto che nel mondo oggi e nel mercato più in generale la carrozzeria è destinata a svolgere un'attività di contoterzismo puro dove qualcuno detta delle regole, queste regole diventano poi contratti ai quali adempiere. Noi abbiamo fatto una scelta, la prima di non essere nemici di un mondo che per noi è estremamente importante, quello dei grandi committenti, flotte, assicurazioni, costruttori auto, concessionarie e dall'altro garantire attraverso tutta una serie di standard di processo e gestionali, garantire che le carrozzerie partecipanti al progetto Auto 180 siano qualificate secondo dei parametri ben precisi e questo ci porta ad avere sul mercato un certo tipo di risultanze. La prima e non ultima è che oggi noi non abbiamo accordi attivi se non con delle flotte, ma non che non siano di rilievo, cioè non le abbiamo mai cercate in maniera così assidua perché la prima regola nostra era dobbiamo omogenizzare i nostri comportamenti per essere sempre meglio qualificati, a quel punto ci presenteremo al mercato. Brevemente l'esperienza con le flotte con cui collaboriamo è un'esperienza che sta dando ottimi risultati, le carrozzerie rispondono bene, le aziende di riferimento stanno lavorando molto bene e quindi vuol dire che la cosa funziona. Quest'anno lo stiamo dedicando all'apertura al mondo assicurativo e quindi stiamo lavorando per cercare di portare a casa sotto il profilo contrattuale valore aggiunto per le carrozzerie restituendo contenimento di costi e qualificazioni in authority da parte della gestione di sinistra. Difatti la domanda che ti volevo fare un po' l'hai anticipato, cioè cosa sta facendo in questo momento Auto 180 e quali sono quindi i progetti in corso? Sì, era una piccola anticipazione semplicemente per dirti che l'allargamento a questa nuova frontiera della contrattualistica in un mercato dove molte società di gestione sinistra e pure, cioè quindi sono delle organizzazioni esclusivamente attrezzate a gestire sinistri, ma non hanno il carrozziere come motore centrale di questo modello. Il nostro progetto si distingue proprio per questo, cioè dove la carrozzeria è centrale, la carrozzeria è proprietaria, noi siamo una società per azioni in cui i carrozzieri sono azionisti e dall'altra parte abbiamo quale risvolto quello di dare quella tipologia di servizi che oggi ai grandi committenti serve, un po' quello che accennavo rispetto al contenimento dei costi, alla logica di authority, ovvero di controllo sulla filiera e lì abbiamo sviluppato tutta una serie di nostre attività peculiari che ci portano ad avere una nota distintiva, non ti dico ad essere misure assolutamente no, però una nota distintiva che caratterizza questa azienda e quindi questo ci fa onore e dall'altra parte ci impegna sempre di più a garantire risultati importanti. Nella nostra conversazione parlavi di alcuni contatti, tavoli tecnici che state organizzando, avete organizzato, non so, oppure sono dei progetti a seguire? Ma noi stiamo lavorando molto in due enti, il primo è CUNA che è la commissione di unificazione normativa del settore auto, è là dove si fanno le norme tecniche e quindi metti da una legge di settore e ne discendono delle regolamentazioni, CUNA lavora su queste argomentazioni, è societale il gruppo Uni ed è strettamente collegata al Ministero dello Sviluppo Economico, lì noi siamo in commissione 14, quella che si occupa di assistenza tecnica e circolazione stradale, stiamo lavorando su tre livelli, le qualificazioni professionali, le apprezzature obbligatorie e le garanzie sui lavori. Poi col Politecnico di Torino, col progetto Standard Testing, stiamo sviluppando anche qua tre cose importanti, la prima un processo di asseverazione e qualificazione delle carrozzerie che abbia delle caratteristiche riconosciute, la seconda un percorso formativo che abbia quale accezione importante, la valorizzazione e la verifica delle competenze all'interno della carrozzeria e la terza, quella a cui noi abbiamo spinto di più perché questa è una delle nostre cose che fin dall'origine abbiamo messa lì come valore aggiunto, è la carta d'identità del veicolo, ovvero una documentazione che vada a certificare, a tracciare tutto quello che è dall'ingresso all'uscita dell'auto, comprese tutte le attività correlate a questo tipo di analisi e controllo. Ti faccio questa domanda, visto che hai accennato alla carta d'identità del veicolo in forma digitale, cartacea, come funziona? È assolutamente digitale perché col cartaceo saremmo da un lato un po' arcaici ma questo può essere anche irrilevante, ma dall'altro il controllo sarebbe veramente immane, non riusciremo ad avere un'organizzazione delle attività di controllo efficiente. E questo verrà attraverso il portale Auto180 o ci sarà un'app dedicata? No, lo faremo attraverso il nostro portale e lo svilupperemo nella parte di carrozzeria che entreranno facendo tutta una fase di addestramento e di coinvolgimento delle stesse, portandole a essere anche innovative in un processo di digitalizzazione di cui anche questo settore ha bisogno. Questa cosa mi piace molto, mi piace molto. Sì, anche poi devo dire che forse è l'impegno più importante. Infatti, assolutamente sì. Allora, ti faccio una domanda che è un po' meno tecnica, ecco non parliamo di Auto180 ma voglio conoscere un po' più il tuo pensiero circa la situazione delle carrozzerie italiane in questo momento. Magari se vuoi fare un percorso, data la tua esperienza trentennale in questo ambito, se ci vuoi raccontare un po' quello che è il percorso della carrozzeria oppure, non so, vuoi raccontarci l'attuale situazione? Ma guarda, io l'attuale situazione è la sintesi di tanti anni di sofferenze, di gioie. Questo è un settore che è cresciuto molto, è cresciuto nei processi. Oggi abbiamo moltissima tecnologia che a un tempo in carrozzeria era relativamente importante. Oggi proprio per come è costruito il veicolo, la tecnologia di riparativa è una conseguenza importante. se vuoi garantire sicurezza stradale e sai perfettamente che questo è un altro dei nostri fiorerocchiello, punti di rilievo. Esatto, perché ho letto di Auto180 vado sicuro. Penso che sia anche un naming registrato vostro, esatto. Sì, sì. Noi diciamo vado sicuro perché oggi la riparazione dell'auto deve essere fatta seguendo dei criteri ben distinti. Il primo, quale tecnologia hai in azienda, quale tecnica riparativa adotti, come formi i tuoi addetti, come organizzi il lavoro dall'accettazione alla consegna e come gestisci, quindi come tieni sotto controllo il sistema azienda per far sì che funzioni. Infatti. Tutte queste cose insieme le puoi fare nell'ambito di carrozzerie organizzate e strutturate, quindi nel merito della domanda come vedo il mercato. Il mercato oggi è di fronte a uno spartiacqua importantissimo, strutture, carrozzerie che vanno nella direzione di essere qualificate secondo dei parametri di cui abbiamo parlato e carrozzerie che ormai vivono la giornata per gli importoni aspettando le macchine nella speranza che qualcosa arrivi. Io mi permetto solo di dire questo, che le prime garantiscono sicurezza stradale perché la loro metodica è in ogni modo certificata e tracciata, la loro attrezzatura è adeguata, così le formazioni e le tecniche riparative. Nei secondi casi io non so se quell'auto è stata saldata anziché incollata, magari che il costruttore prevede quello, se vi sono lamierati tagliati e saldati, se vi è insomma una scarsa competenza con una tecnica molto approssimativa. Ecco, quel tempo lì sta arrivando alla fine e soprattutto le carrozzerie meglio qualificate sono e devono essere quelle che sul mercato fanno la differenza. Sì, questo lo sto notando tanto anche io. L'auspicio è che anche i meno organizzati facciano quel salto di qualità per entrare in un mercato dove il carrozziere, l'abbiamo detto all'origine di questa intervista, non sia relegato a un conto terzista che opera sul mercato, bruciandosi ogni opportunità fino ad arrivare a non reggere più per i costi che hanno. Poi tra l'altro a breve termine ci saranno le auto elettriche, quindi ci saranno comunque... Sì, certo, certo. Già oggi se penso alle qualifiche per Spat Pay, alla messa in sicurezza di un veicolo, alla messa in sicurezza dei lavoratori e dell'area in cui essi operano e girando per molte carrozzerie non di auto 180 perché noi queste qualifiche le abbiamo adottate tutte e vedendo situazioni di auto elettriche messe in riparazione insieme alle altre, questo per certi versi viene da vendetta, ma è un richiamo serio alla sicurezza anche nei luoghi di lavoro. Assolutamente sì. Fabio, se mi permetti io ti pongo un'ultima domanda, o meglio, te ne voglio fare altre due, però prima di farti l'ultima ti faccio una domanda a bruciapelo, così, perché un carrozziere dovrebbe, una risposta veloce, rapida, so che c'è tanto da dire e tanto da argomentare, perché un carrozziere deve, dovrebbe avvicinarsi ad auto 180? Perché in questo luogo troverebbe tanti colleghi con cui confrontarsi su modelli di crescita comuni, te la dico così perché è proprio lì la crescita e lo stimola vedere nel collega un elemento di valore e questo collega vederne in un altro elemento di valore, cioè quindi è un concatenarsi di approcci e di crescita vista la tanta formazione che facciamo, i tanti incontri, le tante web chat che abbiamo fatto nei periodi meno belli di questo triennio, ma devo dirti che quello è il modo più serio per crescere, cioè quindi elevarsi a modello di confronto. Se dovessi dirtela male, dovessi dirtela male, noi vorremmo rappresentare l'università del mondo della carrozzeria, cioè qualcosa che ti fa fare a step degli esami e alla fine rende il tuo curriculum migliore rispetto a chi questi esami non li ha fatti. Questo è un pochino il senso... Questo è un altro bel progetto, molto interessante, che poi tra l'altro se mi permetti, fare rete non dovrebbe spaventare perché noi comunque da sempre facciamo rete, magari lo facciamo inconsapevolmente, ma lo facciamo ogni volta che ci confrontiamo con un altro professionista o magari ci pongono la domanda circa, che so, ci chiedono, ovviamente faccio un esempio in questo momento, che ristorante mi consigli piuttosto che in bianchino mi consigli? Quindi anche quello è fare rete, ma in questo caso, chiaramente visto che stiamo parlando di carrozzerie italiane, fare rete significa essere più uniti, far parte di un gruppo e far parte di un gruppo con persone formate in un certo modo, che hanno determinate qualifiche, quindi di conseguenza non confondere, non fare... Non confondersi appunto con il caos che si è generato anche attraverso l'utilizzo di internet, quindi l'informazione sui social, ovunque, quindi si crea anche qualche tipo di caos. Ecco, permettimi questo termine. Sì, condivido a pieno. Condivido a pieno, posso solo aggiungere che purtroppo l'individualismo in Italia la fa da padrona. Sì, la fa da padrona perché ancora troppi pensano di potercela fare da soli e di essere gli unici. Noi questo lo rifiutiamo un po' come concetto perché è importante che io abbia una relazione, in un confronto con persone e aziende che come me vogliono operare in un sistema diverso. E l'Italia tu accennavi alla ristorazione, che è uno di tanti esempi, potrei parlare del design, del gastronomico. Sì, certo, ovviamente. Io che sto a Milano, se volessi andare a mangiare alle tre del pomeriggio perché magari ho avuto degli impegni, un ristorante qualsiasi non mi accetterebbe, dovrei andare a mangiare in uno dei tanti fast food che mi permette di arrivare, aprire un computer e collegarmi e nessuno mi chiederebbe nulla. Da noi sarebbe impossibile. Quindi non entriamo nella qualità del cibo. Sto parlando di una dinamica legata a che cosa faccio io per far sì che venga riconosciuto come diverso. Ecco, anche noi dovremmo rappresentare questo tipo di diversità e quale carrozzerie dovrebbero trovare all'interno quella disponibilità per poter essere poi un gruppo aggregato reale. E lì il grande sforzo che stiamo compiendo e devo dirti che ovviamente facendo anche tanti errori, ma sempre in buona fede, stiamo crescendo anche da questo punto di vista. Ti faccio un piccolo esempio, noi al sud non abbiamo una grandissima realtà di presenza di aziende, siamo in 94 in Italia, al sud ne abbiamo 9, però sono tutte molto grandi, molto organizzate. A noi piacerebbe avere uno sviluppo completamente diverso nel sud Italia, perché alcune dinamiche proprio dal sud verrebbero accelerate, avrebbero un riscontro e una risonanza maggiore che farle a Brescia piuttosto che a Padova. Quindi su quello... Sono d'accordo su questo. Puntiamo moltissimo per quello che ci riguarda a sviluppare anche la rete nel sud Italia, che al di là delle bellezze paesaggistiche, ma questa è un'altra storia... Ma di fatti, guarda, questo podcast, questa conversazione, mi auguro, possa servire per sensibilizzare qualcuno. Me lo auguro anch'io e da questo punto di vista siamo molto disponibili e aperti ad accogliere. Tu sai, credo si possa citare che abbiamo una persona, una carrozzeria di riferimento, che è quella di Massimo Lanza, che è Massimo Lanza di Brindisi, Lanza Repay Center, che Pasquale Deanna, che Green Soul e tutto lo staff, voi state lavorando molto bene, quindi siete un riferimento per noi molto, ma molto importante, perché siete un'interfaccia unica ed esclusiva che si ha sul mercato. Quindi Massimo, Green Soul, spero che ci sia la possibilità di aprire, di aprirci anche all'orizzonte area sud Italia e fare un grande lavoro insieme. Assolutamente sì, assolutamente sì. Fabio, Autopromotech so che sarai lì. Sì, sì. Avremo uno stand da più di 100 metri. L'abbiamo, proprio in virtù di quello che ci siamo detti oggi, sulla scorta delle nostre esperienze, l'abbiamo aperto. È una piazza, è una piazza dove incontrarsi, dove confrontarci. Faremo momenti di dibattito e di discussione, anche un po' più goliardici, momenti comuni e un po' più ludici. Insomma, però il concetto è quello di rendere questa piazza un momento di confronto, un po' come la Gorà greca, nella quale ci si metteva... E si discuteva. E si discuteva. Questo lo vorremmo ripresentare in questo luogo che è l'Autopromotech, che stiamo per allestire, perché 25-28 maggio saranno le date di presenza alla fiera. Fabio, se qualcuno vuole contattare, Auto180 vuole contattare te, puoi lasciare dei recapiti, qualcosa? Sì, puoi mandare a infochiocciolaauto180.it oppure fabio.porrochiocciolaauto180.it Perfetto, perfetto. Tranquillamente sono io a ringraziare voi, siete stati veramente molto bravi. Io di certo ho conosciuto un professionista con cui sicuramente scambierò altre video, videochiamate, ci scambieremo un altro po' di informazioni, senza ombra di dubbio. Più che volentieri, grazie. Grazie mille per tutto, a presto. Un saluto, un saluto a tutti. Ciao Fabio, buona serata, ciao. Ciao, ciao. Bene ragazzi, allora, di cose ne abbiamo dette anche oggi, ci sono un po' di informazioni che vi abbiamo dato con Auto180 attraverso il bravissimo Fabio Porro, che ripeto, ho riscontrato una certa sintonia, quindi si può parlare tranquillamente, è una persona molto molto aperta e il discorso di fare rete, di fare rete con le carrozzerie, secondo me potrebbe essere un servizio in più, ma più che servizio, avere una competenza in più. Ecco, avere una competenza in più oggi è una cosa molto importante. L'abbiamo parlato con internet, internet, purtroppo ci sono tante informazioni in rete, è bene, rete inteso web, è bene che certe informazioni devono essere scambiate con professionisti del settore e in quel caso quel tipo di informazione ha un valore sicuramente maggiore. Se volete potete commentare, scriverci. Ragazzi, come sempre, tutti quanti avete la possibilità di partecipare a questo podcast perché è un podcast aperto a tutti, tutti quanti hanno la possibilità di dire la propria. Grazie ancora a tutti e ciao.